Speravo avere un debutto anche più felice. Purtroppo la partita è andata così e credo che il risultato sia fin troppo bugiardo perché secondo me nel primo tempo siamo riusciti a chiudersi bene e a essere anche pericolosi davanti. Poi nel secondo tempo abbiamo subito questo gol e poi magari siamo scoperti un po' di più per cercare di recuperarla e poi abbiamo preso il secondo e il terzo. Purtroppo oggi è andata così, bisogna cercare di ripartire il prima possibile. Bisogna ripartire subito. Mi trovo molto bene con questa nuova maglia. Ovviamente speravo di avere un debutto un po' più felice, speravo di vincere perché credo che Pesca sia una piazza molto ambiziosa, una piazza molto importante è normale che ogni partita che giochiamo la giochiamo per vincere.